Non si sono ancora spente le polemiche sulla lottizzazione Parco dei Pini a Campobasso. La maggioranza finita nel mirino degli attacchi dell'opposizione ha replicato con fermezza le accuse di voler autorizzare una nuova colata di cemento su un'area verde, di voler dar via libera alla realizzazione di un nuovo polo commerciale. L'assessore all'urbanistica, nonché vice sindaco Bibiana Chierchia, replica così alle opposizioni. Noi rispondiamo con ciò che abbiamo detto in aula, ovviamente non stiamo facendo altro che l'interesse pubblico. Assessore, è vero, almeno questa è la posizione della minoranza, che è arrivata la lettera dello studio legale, insomma, della parte ricorrente. Il Consiglio Comunale si è fatto intimidire da questa lettera di questo avvocato? Evidentemente no. Capisco che bisogna giocare i ruoli di minoranza e opposizione, ma la strumentalizzazione fa male ai cittadini. I due fatti nuovi che hanno fatto cominciare a discutere la maggioranza su quale fosse la decisione migliore da prendere sono stati la presentazione di un importante emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle e l'arrivo di questa comunicazione da parte dell'impresa che ha ora interesse in quella zona per una lettera che poneva un'ulteriore disponibilità rispetto alla variante proposta. Quella lottizzazione parlava della realizzazione di una sorta di polo commerciale con tre strutture adibite al commercio. Poi, tra l'altro, in questa lettera di questo legale è spuntata anche l'ipotesi di fare un polo sportivo o qualcosa del genere. Quella richiesta dei centri commerciali apparteneva alla richiesta originaria. La proposta del campo polifunzionale è una proposta che probabilmente tendeva a andare incontro alle polemiche che ci sono in questo periodo rispetto alle necessità che l'amministrazione ha di risolvere la questione di un campo polifunzionale adeguato sia alla struttura del rugby che a quella del calcio, ma quella non era altro che una proposta. Sempre l'opposizione dice che la maggioranza ha deciso di non decidere rinviando tutto e prendendo tempo perché sempre secondo quello che dice l'opposizione il Consiglio Comunale del 12 sarebbe tardivo perché il 9 dovrebbe scattare, dovrebbe arrivare il commissario che è già stato nominato e che avrebbe quindi carta bianca. Era quella la precisazione che mi premeva fare e il diritto di replica che chiedevamo come maggioranza. Il Consiglio Comunale è come se fosse ancora in atto. C'è un aggiornamento di seduta, non è una nuova convocazione di Consiglio Comunale.